Saldo il giorno 14 dicembre 2018, circa le ore 16, che bello, sono il fiume Trebbia, tra un'ora c'è il tramonto, ho cambiato regione, mi trovo in Emilia Romagna, fiume Trebbia, ecco qua il ponte che poi mi dirigo tra mezz'oretta verso quella casa là in fondo rossa, dove c'è la fermata del bus che va a Piacenza, poi il treno per Milano. Ho raggiunto questa località mai vista, il paese di Travo, in Emilia Romagna, dista da Piacenza circa 45 minuti in bus, con l'autista che conoscevo ho potuto raggiungere questa località a gratis. Saluto da questo breve YouTube, Piacentino.